Si rompe il cellulare, lo porta in assistenza per le riparazioni, ma quando va a riprenderlo ha una mara scoperta. Le hanno svuotato il conto corrente, rubati 87.000 euro, i soldi sottratti usati per acquizi online e per l'acconto per comprare una BMW X6, poi rivenduta poco dopo. La vittima è una donna dell'Est Europa, residente in Italia. La truffa sarebbe avvenuta a caserta e sarebbe stata portata a compimento nel corso di alcune settimane. La donna disperata subito sporto denuncia. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe portato il proprio smartphone in un centro di assistenza di caserta per farlo riparare. Durante questo periodo, utilizzando l'identità digitale della donna, il truffatore sarebbe riuscito ad introdursi nel conto corrente di banca intesa della vittima e a far partire una serie di bonifici per circa 77.000 euro ed effettuare acquisti online per circa 10.000. Uno degli indagati avrebbe effettuato anche due bonifici ad una società concessionaria d'auto come acconto per comprare una BMW X6, poi rivenduta poco dopo. La procura della Repubblica di Napoli, in particolare il pool che si occupa delle indagini sulle frodi informatiche, ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di quattro persone.